Un problema serio che coinvolge un numero crescente di famiglie con gravi risvolti sociali. Stiamo parlando o meglio riparlando della fortuna tentata alle slot machine. A riproporre l'argomento è il sindaco di Gromo Luigi Santos che manifesta l'intenzione se possibile di emettere un'ordinanza che vieti l'utilizzo nei locali pubblici delle tanto discusse macchinette. Nel paese dell'Alto Serio, 1255 abitanti, sono 15 le slot distribuite in diversi esercizi commerciali. Il primo cittadino che ha preso a cuore la situazione non usa mezzi termini. Diverse persone che notavo giocare assiduamente alle slot machine venivano poi in comune a cercare sussidi attraverso l'assistente sociale. Non voglio essere il primo in queste cose però è giusto soprattutto che se ne parli. Probabilmente è successo tutto questo perché essendo comunque un sindaco di un paese piccolino di 1250 abitanti si conoscono vita, morte e miracoli di tutti gli abitanti. In alcuni casi è un pro, in altri casi è un contro. Però cosa succede? Conoscendo tutti gli abitanti sai le persone più bisognose, sai le persone diciamo quali sono le persone meno attente e mi sono trovato veramente delle persone che chiedevano aiuto, assistenza alla nostra assistente sociale e guarda caso all'interno di queste famiglie c'erano delle persone che giocavano assiduamente a queste macchinette. Probabilmente succede la stessa cosa in città, nelle città più grandi, anzi di sicuro il fenomeno sarà decuplicato. Però probabilmente nessuno se ne accorge perché essendoci uffici separati la persona che va dall'assistente sociale non è la stessa persona che poi va dal sindaco. E da questa cosa è nata appunto questa osservazione. Mi sono detto ma non ha senso che lo Stato guadagni dei soldi su queste macchinette per poi andare a pagare gli assistenti sociali, per poi andare a pagare dei corsi di recupero di queste persone che soffrono di questa ludopatia viene chiamata. La crescente preoccupazione deriva dai numeri, il 46% dei ragazzi in età compresa tra i 15 e 24 anni e ancor più il 9% dei lombardi risulta soffrire di dipendenze da gioco. Perché non provare a fare un'ordinanza dove nel mio paese, nel mio piccolo, riesca a evitare che si installino queste macchinette. Non è semplice perché comunque è un'ordinanza che va a ledere quelli che sono gli interessi dello Stato, dal mio punto di vista però cominciamo a parlarne per vedere un po' cosa succede, dopodiché si deciderà. L'importante è parlarne.